Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Non vogliono sembrare stereotipe, sempre le stesse cose, ma tu sei sempre lo stesso, sei il nostro Dio. E non sappiamo come dire la stessa cosa. Perché se le frasi sono le stesse, è perché tu sei lo stesso. E perché noi sentiamo sempre quello che abbiamo sentito. Tu sei il nostro Dio. Fuori di te non c'è altro. E ci portiamo davanti a te, che ti sei umiliato fino alla morte. Ti sei abbassato a noi, per stare con noi. Per guidarci, per farsi sentire ancora la tua parola. Per farsi sentire vicini a te. Tu non ci abbandoni mai. Tu ci guidi nel nostro cammino. Ed è per questo che ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo. E diciamo come sempre, come tante altre volte. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi è sempre, sia lodato. Quello che a noi sempre è giusto. E il principe della vita, Cristo. Combatta contro chi dà la morte ha il potere. E gli uomini si dividono. Gli uomini che vivono e vogliono vivere. E gli uomini che sono trascinati alla morte. Signore, ti chiediamo di avere gli occhi aperti. Perché il nemico, il nemico combatte contro la vita. Muore la morte. La morte dell'anima con il peccato. La morte del corpo con i vizi. Le passioni, la droga e tanti altri esperimenti che portano alla morte. Perché egli è il principe della morte. Ma noi siamo i viventi, oh Signore. Ma che noi viviamo, Signore. Ogni guarigione è annuncio di resurrezione. Annuncio di vita. Oddio della vita. Noi vogliamo stare accanto a te. Vogliamo vivere. Perché tu sei morto. E adesso sei vivo. E tu non morrai più. E tu ci hai chiamato tutti alla vita. Glorie e glorie a te, Signore. Signore, ti abbiamo presentato il nostro cuore. Grazie. 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 Signore. Grazie. 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 E' scritto per le sue piaghe, noi siamo stati guariti. Questa affermazione nella scrittura si adempie ogni volta che noi ci rivolgiamo al Signore e chiediamo che le sue piaghe siano fonti di guarigione. Gesù è sempre operante in mezzo a noi. E allora fratelli e sorelle io prego tutti quelli che hanno problemi, problemi nel loro corpo, problemi di malattia, disfunzioni fisiche, problemi agli organi della testa, agli organi che sono nel petto, agli organi che appartengono alla sfera della deambulazione, gambe e asti superiori, tutti quelli che hanno problemi al sistema circolatorio, respiratorio, al sistema della sfera sessuale, al sistema della digestione, tutti quelli che hanno problemi di malattie, sospetti, tumori, con grande fiducia guardiamo alle mani di Gesù, alle mani forate di Gesù. Da quelle mani usciva una forza arcana, dice l'Angelo, una potenza di guarigione. Questa potenza non è esaurita, con grande fede, toccando anche mentalmente la nostra parte resa, imbocchiamo il sangue che sborga la riferita delle mani di Gesù, dalla mano destra e dalla mano sinistra. E chiediamo a Gesù di guarirci in forza del suo sangue. Ecco, presentiamo la parte resa al Signore e diciamo guarisci al Signore. Guarisci al Signore. E adesso guardiamo alle piaghe e ai piedi. Gesù ha camminato per tre anni, liberando e risanando tutti quelli che erano afflizzi da spiriti maligni. Ci sono tante persone oppresse, persone disorientate, persone sotto l'influsso del maligno, persone che non hanno pace in casa, che sentono disturbi in casa, persone che si sentono agitate, come perseguitate, persone che credono di essere vittime di ingerenza altrui, che in qualsiasi modo si sentono bisognose di liberazione, di uccidità e di pace. Tutte queste persone sono invitate in questo momento a guardare le piaghe dei piedi di Gesù e a dire liberaci o Signore per le pesante piaghe. Liberamo Signore. Liberano gli spiriti cattivi. russi maligni ed ogni altro male che mi rendi inquieto, turbolento, aggressivo, scontroso, lontano da te e lontano dagli altri. Viberemo Signore. Guarissimo Signore. Porta la pace nel mio cuore. Porta la pace nella mia famiglia. E adesso guardiamo alla piaga del Sacro Costato. Il cuore di Gesù è aperto. Tutti i problemi di ordine spirituale e morale. Tante persone che sono oppresse da pensieri cattivi, da tendenze cattive, che sono legate da peccato. Tante persone che hanno angustie, ferite, piaghe. Tante persone che sono dell'angustia forte. vede tutte queste persone che hanno il cuore ferito, il cuore spezzato, il cuore angosciato. Tutte queste persone che hanno i problemi di ordine morale o di ordine spirituale. Queste persone che si sentono fredde, prive di speranza, incapaci di amare. Persone che non trovano pace in famiglia perché non c'è amore. Tutte queste persone sono invitate a guardare il cuore di Cristo e a domandare che la grazia di Gesù, il sangue di Gesù, scenda nelle famiglie, scenda a restaurare la pace, scenda a dare aiuto contro l'azione, scenda a ridare la vita, a rompere le catene del peccato e a ridare la salute dello Spirito. Signore Gesù, noi ti preghiamo, apri il tuo cuore, il sangue del tuo cuore, scenda nel mio cuore, scenda nella mia famiglia, Signore risana la mia relazione con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, Signore, porta pacificazione, restaura la pace, libera me dalle angustie, Signore, fa che io abbia il coraggio di rompere con il peccato, di liberarmi da un vizio che mi opprime, Signore Gesù, scendi dentro di me e dammi la guarigione. E adesso, fratelli e sorelle, guardiamo la corona di spine, tutti i pensieri e le angustie che assinano la nostra vita, quante preoccupazioni, sono come le spine della corona del Signore, quante preoccupazioni, quanti angustie, quanti assili, diciamo, Signore Gesù, per le spine della tua corona che grava sulla tua testa, libera me dalle angustie, dai pensieri molesti dalle preoccupazioni, dalle preoccupazioni, Gesù, vieni in mio soccorso e aiutami questa sera. Sì, oh Signore Gesù, noi crediamo che tu passi ancora in mezzo a noi risanando tutti i malati, tu passi in mezzo a noi restaurando quello che viene a mancare in tante e tante persone, tu passi in mezzo a noi ridonando la pace, la serenità, la gioia, fa che questa sera ritorniamo a casa con il dono tuo, con il dono della guarigione, della consolazione, della liberazione, uomo di glerea che passi, consolami, guariscimi, liberami, aiutami, uomo di glerea, io guardo a te, io grido a te, e il mio grido è ascoltato da te, questa è la mia fede, e in questa fede io guardo a te, e grido a te, salvami Signore.